Grave incidente nella serata di domenica 13 agosto, poco dopo le 17, a Baldissero Canavese, in via Pramonico, all'incrocio con via San Giovanni, a scontrarsi una moto Yamaha e una Fiat Panda prima serie. L'impatto è stato alquanto violento, la vettura si è ribaltata mentre la moto è andata in pezzi. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della croce la seca a Stelamonte, Strambino, il soccorso avanzato di Caluso, l'elisoccorso c'è del 118, i vigili del fuoco di Ivrea, l'elicottero drago dei vigili del fuoco con i staff, i carabinieri di Aglie e del nucleo radiomobile di Ivrea. Il giovane motociclista, subito soccorso, è stato ritrasportato all'ospedale di CTO di Torino in gravi condizioni. Inutili invece i tentativi di rianimare una donna che si trovava sulla vettura con il marito. L'uomo, invece, ferito in modo non grave, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, in corso degli accertamenti sulla dinamica del sinistro.